Bentornati! Oggi iniziamo il nostro viaggio in Provenza. La prima tappa per raggiungere la Provenza è Brianson dove facciamo colazione con una prima brioche francese. Quindi ripartiamo verso Sisteron dove ci fermiamo per una pausa pranzo. Durante il nostro viaggio in Provenza la prima struttura in cui ci siamo fermati a dormire si trova ad Apt e si chiama la Providence, un piccolo borgo completamente ristrutturato immerso nel verde in cui è possibile affittare delle case di diverse dimensioni. In descrizione vi lascio un link per vedere la struttura anche su Booking. Il paesino di Apt dista pochissimi chilometri dalla struttura. Da qui è possibile partire per un piacevole itinerario in macchina che tocca diversi paesini provenzali. Vi consigliamo di salire a South per una vista panoramica dei campi di lavanda sottostanti. Vi ritroverete completamente immersi nei campi di lavanda e numerosi sono anche i negozi che vendono tantissimi prodotti a base di lavanda. da non perdere assolutamente una tappa alla Abbazia di Senanc. Molto carino anche il villaggio di Gord, un paesino arroccato sulle montagne in cui è stato ambientato il film un'ottima annata. Ma è tempo di ripartire per visitare un altro borgo, Fontaine de Vaucluse. Dove è possibile concedersi una piacevole camminata fino alla fonte del fiume Surgio. Ultima tappa di questo nostro primo giorno in Provenza è l'Is sur la Surgio, una sorta di piccola Venezia dove vi consigliamo di fermarvi per cena. In descrizione trovate anche un link per una guida sulla Provenza. Vi lascio il link in descrizione alla playlist della Provenza in cui potrete trovare altri video sul territorio. Nel prossimo video vi portiamo nel Roussillon e Aix-en-Provence. Mettete un mi piace sotto il video per supportarci e farci crescere col canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per non perdere le notifiche a tutti i prossimi video di viaggio che andremo a pubblicare. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima destinazione. Grazie a tutti!